Campania da domenica in zona rossa, lei cosa sta vedendo in questi giorni? C'è molta gente in giro, ci sono i controlli soprattutto? Ma controlli non tanto, comunque spero che passi questo perché stanno aiutendo tante attività commerciali e quindi non muoveremo per il Covid ma si muoverà di miserie e di fame perché vedo tanti negozi giusti, quelli aperti saranno in difficoltà, speriamo che finisca presto. Poche parole che sintetizzano il momento complesso che stiamo vivendo. Saracinesche abbassate, meno affluenza per le strade e negli occhi delle persone la paura e la preoccupazione di queste ore. Sentimenti condivisi non solo per l'emergenza sanitaria. I contagi sono in aumento e sono evidenti le difficoltà delle strutture sanitarie allo stremo ma sono ore di grande apprezzione anche per le categorie penalizzate dalle chiusure. Non si muore solo di Covid, si muore anche di fame. Una voce unanime. Lei sta vedendo le persone che rispettano le misure di... Più o meno sì, più o meno sì, si rispetta tutti con la mascherina, sì, 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 sì. A Torre del Greco, i cittadini sembrano ormai avere consapevolezza del rischio di contagio adottando comportamenti corretti, ma continuano a chiedere alle nostre telecamere maggiori controlli delle forze dell'ordine. Intanto partito in queste ore l'avviso pubblico del Comune per voucher alimentari per le famiglie in difficoltà spendibili presso gli operatori della grande distribuzione che abbiano manifestato la volontà di aderire all'iniziativa. Sospeso anche il pagamento delle strisce blu fino al prossimo 29 novembre. Grazie. Grazie.